Il Garante per la protezione dei dati personali sta ricevendo in questo periodo segnalazioni e reclami con i quali viene lamentata da parte dei familiari la diffusione sui social e sugli organi di stampa, anche online, di dati personali eccessivi riguardante persone risultate positive al Covid-19. Per questo abbiamo fatto il punto con l'avvocato Sandro Domingo, esperto di protezione dei dati personali e docente universitario presso le Università La Sapienza di Roma e Macerata. Tutte le persone fisiche in tutta Europa e anche in Italia, proprio in virtù di un regolamento europeo relativo alla protezione dei dati personali, godono di questo diritto fondamentale. Il diritto fondamentale è la protezione dei dati personali. Ora noi assistiamo in questo momento un po' per paura, un po' per la voglia di conoscere quali possono essere potenzioni di pericolo. Dal mondo dei social si vede questa richiesta pressante. Ora questa cosa è vietata dalla legge per essere estremamente sintetici, non perché il diritto alla privacy sia più importante del diritto alla salute. Ho detto che il diritto alla privacy è un diritto fondamentale, ma anche il diritto alla salute lo è, anzi è un diritto che prevale sicuramente sul diritto alla protezione dei dati. Che cosa prevede su questo la normativa e anche la normativa attuale, mi riferisco a quella specifica dell'emergenza? Che siano le autorità sanitarie e la protezione civile a trattare i dati delle persone positive al test da coronavirus. E sono loro dunque che si prendono carico di contattare tutte le persone che sono entrate in contatto con positivi al coronavirus. Se si cedesse a questa richiesta o la persona che venendo a conoscenza della precisa identità di una persona esposta a questa infezione ne rendisse pubbliche le generalità, l'indirizzo, i dati clinici, commetterebbe una grave violazione perché da un lato, ci tengo molto a precisare questo, da un lato verremmo a ledere un diritto fondamentale ma soprattutto si produrrebbe un danno a questa persona in termini di stigmatizzazione sociale tendenzialmente permanente. L'autore di questa diffusione illecita di dati si espone, d'altra parte, a delle responsabilità giuridiche molto pesanti. Sia perché gli può essere chiesto il risarcimento dei danni che ha provocato con questa illecita diffusione di dati, sia perché si espone al rischio dell'applicazione di una sanzione amministrativa che è pesantissima. Si parla anche potenzialmente di milioni di euro. Proprio alcuni giorni fa il Garante per la Privacy, che è l'autorità nazionale che vigila sulla corretta applicazione di questa normativa e svolge una funzione di garanzia rispetto ai diritti fondamentali delle persone, ha voluto ricordare che anche i giornalisti sono tenuti al rispetto delle norme sulla dignità delle persone e quindi, tranne i casi in cui, ad esempio, questa circostanza di positività non riguardi delle persone, delle personalità con un profilo pubblico importante, queste sono situazioni nelle quali certamente si possono divulgare queste informazioni perché rivestono un interesse pubblico. Ma quando parliamo di privati cittadini che incorrono in questa sciagura, diciamo così, il giornalista deve valutare l'essenzialità dell'informazione e deve astenersi dal divulgare questi nomi. Questo vale anche, c'è la raccomandazione precisamente diretta anche agli amministratori locali. Spesso i cittadini, come dicevo prima, anche sui social si rivolgono a loro. Dicci chi sono i nostri concittadini, ecco, so anche che qualcuno ha ceduto, diciamo, a questa pressione, magari in buona fede, pensando di rendere un servizio alla propria comunità, ma non ha fatto questo e il garante lo ha voluto rammentare sulle conseguenze giuridiche, sono quelle che ho detto poco fa, anche queste persone incorrono nelle stesse sanzioni.